Adesso mi sento bene fisicamente e mentalmente, sto giocando ancora, ho fatto la prima partita che ho giocato qua, ho pensato sei mesi, sei, sette mesi senza giocare e prima di tornare a Benevento due mesi fermi quasi. Ma va bene, sono troppo contento per la squadra adesso, abbiamo vinto, stiamo facendo bene, è stata una partita troppo importante per noi questa sera, abbiamo vinto, io come attaccante ho fatto un gol e un assist. Sono due calciatori troppo diversi, lui gioca più nella profondità, con me io gioco più in piedi, e trovo il spazio dentro le linee e si può dare la palla a lui per fare il gol, è un attaccante troppo forte che fa il gol sempre e questo sappiamo di lui. Per me tornare a Benevento con giocatori nuovi, così sono stato via un anno per conoscere tutti i calciatori e loro a me, demora un po' di tempo, prima due o tre mesi per entrare in tutto, ma va bene, adesso mi sento bene fisicamente, mentalmente, la squadra sta vincendo, lo facciamo bene e continuiamo così. Il mio gol? No, è il gol più bello della mia carriera, penso. No, va bene, ho visto il calcio d'angolo e con il cabello ho toccato la palla, va bene, come attaccante deve stare sempre nel giusto momento, nella giusta posizione nell'area per fare gol, non so, è una cosa che non si può dire, vado un attimo alla destra, è venuta la palla, come penso con il ginocchio, così ho fatto il gol, ma va bene, gol e gol per un attaccante, sia di 50 metri o di 2 metri, conta per uno e va bene, era un gol importante nella partita perché era 2-2, seconda parte, abbiamo fatto 3-2 dopo fare il 4-2 e chiuserla. Logico che è un'esperienza diversa che l'anno scorso penso, quando la situazione della squadra, anche dei tifosi, nella città, tutto era diverso perché io sono arrivato in settembre, penso che il primo punto è arrivato in dicembre, erano 3-4 mesi, è troppo difficile anche per noi come calciatori qua nel spogliatorio, dentro al club, anche per loro. Sono tornato per lavorare, al primo a me, personalmente, come sono fisicamente nel momento, per migliorare e dopo per dare la mano alla squadra, questa è la cosa più importante per me. Ho fatto questo e adesso stiamo vincendo e vediamo giorno a giorno, prima questa partita e dopo andiamo alla prossima, vediamo dove, dove, che è successo alla fine della stagione, ma noi vogliamo andare alla Serie A, questo è, come si dice, l'obiettivo nostro e vediamo in un mese. In questo momento, la cosa importante, te lo dico la verità, in questo momento non penso in altra cosa, voglio fare lo più possibile per questa squadra in questo momento, e io come attaccante, come portiere, difensa, centrocampista, l'obiettivo è nostro come club, come società e come calciatore, dentro la partita fare la differenza, se io come attaccante posso fare la differenza con un pass, un gol o dare la mano al centrocampista che non arriva o qualche cosa per vincere, per la squadra, questa è la cosa più importante e che andiamo alla A. Non so come direlo in italiano, ma che diamo tutti, cento per cento per farlo. Se l'ultimo giorno c'è una squadra che giocano meglio di noi, vince noi, non c'è una chance per arrivare, questo è calcio, se vinci si perde, ma abbiamo fatto tutti. E dopo, se lo faccio bene, lo so che io ho la possibilità di giocare, ho giocato, non sono più scarso che due anni fa, è solo che il momento non è stato per me, l'ultimo si è diverso, sono stato in America, sei mesi senza giocare, l'ultimo ho fatto male nella schiena, è arrivato qua due mesi fermi, lo primo due mesi qua non ho giocato, e se non si gioca, non gioca anche in nazionale, questo è normale. Se gioco e lo faccio bene, lo faccio bene con la squadra, è logico che la nazionale, ma non penso in questa cosa, penso più nell'oggettivo di questa squadra in questo momento. Grazie.